Gusto, aromi raffinati, atmosfere delicate e il profumo di una tradizione di eccellenza, che è il simbolo stesso di una produzione invidiata in ogni angolo della terra. Sua Maestà il Vino è l'assoluto protagonista della settima edizione di Pestum Wine Festival, l'attesa manifestazione di esposizione delle eccellenze vinicole organizzata da Angelo Zarra, appuntamento nei giorni 22, 23 e 24 giugno negli spazi attrezzati dell'Enoteca Paradise, in via Laura Mare, a Capaccio Pestum. Spazi con varietà di esposizioni ed offerte dai prodotti di vino e perifici e fino alle produzioni di vodka e distillati. Importante appuntamento anche per la valutazione delle produzioni con giurie di esperti e giurie di consumatori e con i dettagli per partecipazione al concorso pubblicato sul sito www.pestumwinefestival.com. Un autentico festival del gusto e del bombere, aperto al pubblico nei tre giorni dell'appuntamento delle ore 18 alle ore 23. Nei tre giorni sono previsti momenti di riflessione e di presentazione di alcune eccellenze nelle produzioni vinicole italiane, illustrate da esperti e produttori, tutte programmate nelle tre serate dell'appuntamento presso l'Enoteca Paradise di Pestum.